Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. Metodo di studio PQRST. Oggi voglio spiegarti questo che è uno strumento, un vero e proprio metodo di studio pronto all'uso, fatto di 5 diverse fasi. Ciascuna delle fasi viene riportata nel nome stesso, che quindi sono le iniziali appunto della parola che descrive ogni singola fase. Ti andrò a spiegare proprio ciascuna di queste, ma prima voglio fare il giusto preambolo, cioè voglio darti un po' di contesto per capire come andare ad utilizzare questo metodo di studio. Come tanti altri metodi che ti ho proposto, sono dei metodi pronti all'uso. Che cosa vuol dire? Sono abbastanza generici per poter essere utilizzati in moltissimi casi, quindi puoi utilizzarlo perché appunto devi solo applicare le tecniche che tra poco andrò a spiegarti, ma devi comunque considerarne i limiti. Nel senso che se hai uno strumento che può essere applicato in tantissimi contesti, vuol dire al tempo stesso che è in grado di gestire presso a poco qualunque situazione, ma non va nel dettaglio, nella specificità di quello che potresti incontrare. Per cui meglio utilizzare un metodo generico che non utilizzare in nessun modo nessun metodo, ma è giusto capire che comunque i tipi di obiettivi che ti prefissi, che puoi raggiungere con un metodo come PQRST, quello che ti propongo oggi, sono comunque limitati. Non vuol dire che non puoi raggiungerli, ma è più difficile riuscire ad ottenerli nel momento in cui utilizzi un metodo generico. Ti farò capire più in avanti qual è la soluzione che poi ti consiglio di adottare nel generale, nella tua carriera universitaria. Ma partiamo con gli elementi di base, e quindi andiamo a capire qual è la prima fra queste cinque tecniche. Prendiamo il nome, PQRST, P, P-Stapper Preview. Quindi andiamo ad analizzare il materiale, a fare una sorta di anteprima di quello che poi dobbiamo andare a studiare realmente. Cerchiamo di capire come è organizzato il materiale, il libro, le dispense, le slide, quello che dobbiamo studiare. Questo ci permette di avere una sorta di blueprint, quindi uno scheletro di tutti quegli elementi che costituiscono gli argomenti, le tematiche da apprendere, e di conseguenza sappiamo già quali sono quelli principali, elementi che rappresentano degli approfondimenti, degli sviluppi, degli esempi. Già abbiamo un modo, seppur intanto improvvisato, per gestire le informazioni e poterci orientare all'interno di queste. E questa è la prima fase, molto semplice. È essenziale ed è fondamentale che tu la segua, perché è proprio quello che appunto costituisce le fondamenta di questo metodo. Quindi passiamo dalla prima lettera, P alla seconda, Q. Q-Stapper Questions. Porre delle domande. Può sembrarti strano porre delle domande quando ancora non hai nemmeno letto il materiale. Questo invece è un modo particolare di orientarsi appunto all'interno del materiale che vai a studiare, perché ti permette di focalizzarti su quegli aspetti che potrebbero essere degli argomenti importanti. Hai già fatto una sorta di analisi con la prima fase di studio. Adesso vai ad aggiungere la dimensione critica quando poi dovrai andare ad apprendere a leggere il materiale, perché già stai ponendo delle questioni che dovranno trovare risposta nel momento in cui inizierai a studiare, tra virgolette, in modo più concreto. E questo avviene attraverso la terza fase, perché P, Q, R. Terza fase da R sta per Read. Quindi, leggi. La lettura, lo sappiamo, è essenziale ed è fondamentale. Ma in questo caso non è una lettura messa lì, tanto per, senza capire perché serve. Ma è perfettamente orientata e contestualizzata, organizzata, proprio a partire dalle prime due fasi, perché abbiamo avuto un modo di capire come è fatto il materiale, quali sono gli elementi, quali sono gli argomenti. Abbiamo aggiunto l'aspetto delle criticità, ponendo delle domande, puoi farle tranquillamente per iscritto, se preferisci, ma comunque l'importante è avere quell'ottica di cercare di mettere in dubbio le cose che leggi, non prenderle per buone, e poi ovviamente devi leggerle. E questa, appunto, è la fase che ti permette di concludere questa prima parte del metodo, che ti fa entrare all'interno del materiale, non come qualcuno che deve solo imparare a memoria qualche informazione per riuscire a superare l'esame, ma invece come qualcuno che cerca di comprendere che cosa ha davanti e cerca quindi di apprenderlo in modo critico. Queste sono tre fasi fondamentali per impostare proprio il lavoro, e chi ben comincia, come si dice spesso, è già a metà dell'opera. E queste tre fasi, appunto, sono l'inizio e la metà di questo metodo, ed è essenziale. Ti ho detto all'inizio del video che ti avrei spiegato anche qual è la soluzione che ti consiglio, però, di adottare nella tua intera carriera universitaria. E questo, ovviamente, prima di andare a completare con le ultime due fasi del metodo PQRST. Quello che voglio proporti è il metodo di QE. È un altro metodo di studio rispetto a quello che oggi stiamo esplorando, ma è completamente a tutt'altro livello. Perché? Non è un metodo generico, perché è fatto e costruito in modo specifico per riuscire a gestire ogni tipo di informazione che devi studiare. Quindi, se il metodo PQRST, ti ho detto all'inizio che è in grado di essere adattato più o meno in qualunque contesto, ma ha come lato negativo il fatto che comunque è abbastanza semplice e quindi potresti trovarti in alcuni contesti a non sapere esattamente come porre le domande, se le informazioni sono complesse, quindi come, in sostanza, applicarlo. Il metodo di QE è fatto per fare in modo che tutti gli aspetti dello studio, specifici legati al materiale, diversi tipi di materiale, dalle formule al testo, testi complicati, più semplici, grafici, qualunque cosa, possa essere gestito nel modo migliore. E quindi avere a disposizione un metodo come il metodo DQE, che anche questo è un acronimo, sta per domina qualunque esame, ti permette di gestire al meglio tutte le circostanze che puoi incontrare senza avere il dubbio di sapere magari o non sapere che cosa fare. Quindi se col metodo PQRST hai un buon punto di inizio, con il metodo DQE trovi la soluzione per qualunque problema da un punto di vista universitario e quindi non mi riferisco al singolo esame, ma a tutta la tua carriera. Quindi come vedi ci sono tantissimi punti da cui puoi trovare vantaggio e giovamento per riuscire davvero a cambiare il corso della tua carriera universitaria e raggiungere gli obiettivi accademici che ti sei prefissato o prefissata. Quindi ti lascio il link in descrizione se vuoi approfondire proprio il metodo DQE. Al tempo stesso quindi andiamo a completare con le ultime due fasi del metodo PQRST che di conseguenza sono la S, S sta per State. Abbiamo, ritornando a quello che abbiamo detto prima, avuto un po' un'idea generale con la fase di Preview, abbiamo posto delle domande nella fase di Questions, adesso abbiamo anche avviato la lettura del materiale, dobbiamo dare le risposte alle domande, ovviamente alla luce di quello che abbiamo letto, è quello che abbiamo compreso. Quindi State sta proprio per questa. La quarta fase di studio è quella in cui andiamo ad aggiungere il contenuto delle risposte a quelle domande che hanno un po' guidato anche preventivamente la fase di lettura e comprensione. Alla fine dobbiamo capire se queste domande sono corrette oppure no, se sono sufficienti per studiare quello che dovremmo studiare. E quindi arriviamo anche all'ultima fase. T sta per Test. Quindi dobbiamo valutare, mettere alla prova quello che abbiamo fatto per capire se è sufficiente o dobbiamo aggiungere, approfondire, alimentare anche quel dubbio che abbiamo già instaurato durante le prime fasi di questo metodo di studio. Quindi questo era quello che ti volevo proporre per farti capire in che cosa consiste il metodo PQRST. Utilizza questo se non sai utilizzare in nessun caso, in nessun metodo di studio, o hai anche qualche dubbio sulle strategie e tecniche che hai utilizzato finora, ma sappi che se vuoi davvero trasformare la tua carriera universitaria, ti serve un metodo di studio molto più completo, tutto incluso, come il metodo di QE, che ti ripeto, ti lascio in descrizione attraverso il link che troverai. Quindi se hai qualche dubbio o qualche domanda, sempre attraverso i contatti in descrizione, oppure attraverso i commenti, puoi chiedere i quesiti, i dubbi, quello che preferisci. Io nel frattempo ne approfitto per ringraziarti del tuo tempo e della tua attenzione per avermi seguito fin qui, e quindi ti aspetto con moltissimo piacere nel video che uscirà domani.